Ogni volta che senti un po' di dolore e un po' di stanchezza, tu ti ricorderai, bene, se adesso ho voglia di fermarmi, questo è il punto in cui se vado avanti miglioro. Perché l'andare avanti non ti fa migliorare solo nel corpo, che la maggior parte dei principianti reputa la parte più importante dell'atleta. No, noi siamo performance mentale, perché la mente dopo che tu prendi delle crocche in bocca che ti dice vado avanti. E' la mente quando tu prendi un calcio al fegato che ti dice intanto mi alzo, non ce la farò, ma intanto mi alzo, intanto gli do l'ok, poi passano altri secondi e vedrai che poi quando inizi a combattere, se guadagni altri 4-5 secondi, poi ce la faccio. Quella è la mente. E però la mente ti può dare fiducia, può farti percepire più forte se tante volte lei ha sperimentato che tu davanti a una difficoltà, sei andato comunque avanti e non sei morto. Perché la persona coraggiosa è o uno che non ha mai incontrato la paura o quello che ogni volta che incontra la paura fa un passetto. E tutte le sue esperienze sono o le volte che avevo paura e ho fatto un passetto comunque ce l'ho fatta. Allora hai tanta fiducia in te. Tutto si basa sul abituarsi a dare ogni volta di più. Quando facciamo il saluto alla fine, dopo l'applauso che facciamo quell'urlo, quell'urlo è e vai, mi sfogo di tutta la sofferenza che ho avuto a lezione. Quella sofferenza avviene perché hai fiducia nel metodo e hai aspirazione e attrazione verso il risultato. Se hai pure consapevolezza che quello che stai facendo è corretto, non ti ferma più nessuno. Se tu fai un allenamento corretto come atleta e poi c'è un altro te che fa lo stesso allenamento ma lui sa che quell'allenamento è corretto, beh quella consapevolezza ti aiuterà a raggiungere maggiori risultati. Perché? Perché durante la sofferenza che per forza devi avere in allenamento perché devi sputare il sangue, in un momento di debolezza la decisione di una goccia in più di sudore e di versare verrà proprio grazie al fatto che tu sei convinto che quello che stai facendo è corretto. Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Ciao, sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me. Datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.